Sicuramente è tanta, è anche varia, variata, diversificata, ed è molto capillare. Amo l'arte intima. Mai dire mai. Air diffused, meaning light and far-reaching. Libro sempre Memorio di una ragazza per bene, Simone de Beauvoir, film La strada di Fellini, e un piatto per me è la Palacinchen Super. I concetti spaziali di Fontana sono sicuramente le opere che mi hanno influenzato di più. Il mio approccio è sempre molto spontaneo, però quando studiavo filosofia ho studiato con un professore che si chiamava Elio Franzini, che ha scritto un libro che si chiama Fenomenologia dell'invisibile ed è per la prima volta tramite quello che ho iniziato ad analizzare e a guardare l'arte con altri occhi. Quindi il concetto di al di là dell'immagine, l'immagine come simbolo di qualcosa che non si può comunicare a parole, quindi per questo tornando a Fontana è l'influenza che ha avuto il concetto spaziale su di me. Questa è sempre una domanda controversa, risposte ancora più controversa, faccio tante cose utili, inutili, difficili da sapere, le faccio nel mio mestiere, cercando di produrre il meno possibile, usare quello che già esiste. Lo facciamo quotidianamente spegnendo l'acqua del robinetto. Quando ci laviamo i denti, a usare dei persivi bio, chissà se aiuta la casa in classe A, A, O, A, B, o di chi lo sa, facciamo del nostro meglio, ma no, non siamo perfetti.